E' terminata la partita del campionato Andaro 21 tra San Biagio Monza e Atletic Brianteo. E' qua con noi un giocatore del San Biagio mentre vi diamo le azioni, a lui chiediamo un commento su questa partita. Abbiamo giocato bene, siamo stati un po' sfortunati tra traverse, pali e parate varie. Nel complesso la squadra sta crescendo e manca solo un po' di esperienza nel giro palle e negli schemi. Grazie Andrea per l'intervista e ci vediamo sui campi di Calcio 5. Grazie a te, forza San Biagio! Ed ora per il Brianteo è qua con noi Nicolas mentre vediamo le sue tre reti, anche a lui chiediamo un commento su questa europartita. La partita è andata molto bene e secondo me siamo stati molto bravi sia in fase offensiva che difensiva, sia il primo tempo che il secondo tempo. Poi ovviamente siamo stati bravi anche ad addormentare un po' il gioco perché comunque eravamo in vantaggio e non volevamo comunque farci riprendere. E niente, sono contento di aver fatto queste tre reti, anche perché adesso starò un po' fermo, però tutto sommato sono contento della squadra e secondo me arriveremo molto lontano. Ti ringrazio per l'intervista e ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te Ivan e forza Athletic Brianteo!